Signore e signori, dopo la principale mastodontica operazione jacksoniana di oltre ormai vent'anni, con il Signore degli Anelli e dopo l'ulteriore fatica jacksoniana, ma non altrettanto mastodontica, con l'Hobbit nel 2026, quindi fra due anni, stando a una notizia uscita praticamente in giornata, potremmo avere un nuovo capitolo cinematografico dedicato all'universo tolkieniano. E cosa dire? Svegliarsi con una notizia del genere ti lascia un attimino senza fiato. In realtà, notizie riguardanti i nuovi film dedicati all'universo di Tolkien erano già trapelate un po' di tempo fa durante il rilascio della serie TV Rings of Power, ma diciamo che la maggior parte, compreso il sottoscritto, pensava che si trattassero di semplici rumors messi in giro per cavalcare un po' l'onda del momento. Poi, dopo qualche mese venne fuori la notizia che la Warner aveva contattato proprio Peter Jackson per provare a convincerlo a rimettersi al lavoro su questo universo. Tra l'altro, qualche mese fa era stata postata una foto sul web in cui si vedeva PJ trastullarsi con i suoi Oscar e un bel librone del Silmarillion sul tavolo con tanto di segnalibri tra le pagine. Quindi, fino ad oggi, erano stati solo dei rumors, foto o comunque brevi pezzi di intervista che non ci avevano dato alcuna certezza sulla reale attendibilità di queste notizie. Ma oggi, a quanto pare, è venuto fuori un nuovo articolo, anzi tanti articoli, che hanno riportato le parole di un certo, David Zaslav, che è il CEO della Warner, che durante la teleconferenza sugli utili del primo trimestre, ha affermato niente popo di meno che che la società, quindi la Warner, è ora nelle prime fasi di sviluppo della sceneggiatura per i nuovi, quindi nuovi, plurale, film del Signore degli Anelli, che, secondo lui, prevedono il rilascio nel 2026 ed esploreranno le trame ancora da raccontare. Boom! Io non so se il caro Zaslav fosse consapevole dell'esplosione che avrebbe causato nella community tolkieniana e non solo una notizia del genere, fatto sta che finalmente abbiamo una conferma ufficiale. Avremo dei nuovi film dedicati all'universo di Tolkien. Ma ora che abbiamo buttato la prima bomba, cerchiamo di andare un po' più nei dettagli di questa notizia. Nello stesso articolo, che vi posto ovviamente nei commenti, scopriamo che il primo di questi film si intitolerà Il Signore degli Anelli, la caccia a Gollu, e avrà Andy Serkis come regista e come attore. Boom! Boom! Super boom! Seconda bomba droppata. Ora, breve commento a questa ulteriore bomba. Ha senso. Ha praticamente senso. Perché sappiamo che prima e durante i fatti legati propriamente alla Guerra dell'Anello, quindi quelli raccontati nella trilogia principale, sono avvenuti altri fatti che ovviamente sono rimasti al di fuori dei tre film della trilogia. Per quanto alcuni brevemente accennati. Tra questi fatti c'è appunto la caccia a Gollu. Ora, dedicherò un video, probabilmente uno dei prossimi se non più video a questa storia, quindi tranquilli che arriverà probabilmente tra qualche giorno, per quanto comunque voi possiate già ascoltarla nei video ad esempio dedicati ad Aragorn e a Gandalf che trovate sul canale. Ma per riassumervi il tutto, di cosa potrebbe parlare questo film? In modo sintetico, dopo che Gandalf andò via dalla Contea, quindi ci troviamo in un periodo successivo alla festa di Bilbo, quindi dopo la festa di Bilbo, lo stregone per ben 17, 17 anni, nel libro, attenzione, nel libro, praticamente scompare. Ovviamente dal punto di vista di Frodo. Ma per fare cosa? Perché scompare? Per cercare delle risposte in merito alla natura dell'unico anello, custodito in quel momento da Frodo, e l'unico essere che poteva dargli tali risposte era appunto Gollum. E cosa accadde? Che incontra Aragorn, che aveva a sua volta catturato proprio Gollum a Bosco Atro, i due lo interrogano, si dice che quasi lo abbiano torturato a quanto pare, e scoprirono che Sauron era arrivato a Gollum prima di loro, e avendolo a sua volta torturato a povero Cristo, lo aveva costretto a rivelargli il nome dell'Hobbit che gli aveva rubato l'anello, e cioè Baggins della Contea. E in seguito Gandalf lasciò Gollum in custodia, gli Elfi Silvani, di Svendu e la Bosco Atro, che però, dato che gli Elfi sono dei frallocchioni, questo lo sappiamo, diciamo, provarono empatia per lui, e lo lasciarono praticamente andare. In realtà Gollum riuscì a fuggire, però è come se lo avessero liberato. Però, questa parte dell'interrogatorio, della prigionia con gli Elfi, eccetera eccetera, è già una parte abbastanza avanzata, rispetto a quello che potrebbe raccontare il film. Infatti abbiamo letto che il titolo potrebbe essere, perché, appunto, non abbiamo ancora la certezza sicura che sarà quello, ma potrebbe essere caccia a Gollum. E quindi potrebbe raccontare la caccia a Gollum di Gandalf, ma soprattutto di Aragorn. Tra l'altro, il tutto potrebbe avere un'atmosfera abbastanza creepy, perché, ad esempio, Aragorn viene a sapere della presenza di Gollum a Bosco Atro perché giravano voci di un'orribile creatura che rapiva i bambini in fasce, probabilmente per mangiarseli. Ora, erano voci che però non sono totalmente da escludere, il che posizionerebbe, fra l'altro, Gollum praticamente tra i cannibali. Ma, tralasciando questi dettagli che sicuramente potremo esplorare in futuro in altri video, o live, e così via, a mio parere, esplorare questa storia potrebbe essere interessante, ma anche problematico. Interessante perché, comunque, andrebbero a raccontare un tassello fondamentale della storia della Terra di Mezzo, legato alla Guerra dell'Anello. Quindi andrebbero a coprire un'altra fetta della narrazione che non era stata coperta durante la trilogia. Il problema, però, è che nella trilogia, quindi nei film, dal compleanno di Bilbo alla partenza di Frodo e Sam dalla Contea, passano al massimo qualche settimana, il tempo praticamente per Gandalf di andare a Minas Tirith per informarsi sull'Anello di Bilbo e tornare indietro. Nel libro, come già ho detto, passano, invece, ben 17 anni, durante il quale, appunto, Gandalf e Aragorn danno la caccia a Gollu. Eh, e quindi? E quindi non c'è praticamente spazio per inserire un film del genere, perché dovrebbero inserirlo in un lasso temporale di circa qualche settimana. Oppure devono semplicemente ignorare questa differenza tra libro e film e andare avanti ugualmente. Il che, da una parte potremmo dire, e vabbè, cazzo ce frega, basta che abbiamo i nuovi film. E potrei anche essere d'accordo se ovviamente ci tirano fuori dei film decenti, e non delle merite buffonate come certe serie TV di mia conoscenza, ma rimarrebbe comunque il problema di un'evidente incoerenza temporale tra la trilogia principale e questi ipotetici nuovi film. Ora, vedremo come gestiranno la cosa, ma è ovvio che il tutto darà vita a discussioni importanti soprattutto tra coloro che tengono in modo particolare alla canonicità di questo universo, tra cui, lo sapete, c'è anche il sottoscritto. Comunque, proseguendo con l'articolo, leggiamo che Zaslav afferma che il regista Peter Jackson e i suoi partner di lunga durata, Frank Walsh e Filippa Boyens, saranno coinvolti in ogni fase del processo. Boyens e Walsh scriveranno la sceneggiatura e che l'accordo copre due film del franchise. E questo mi rende sicuramente più tranquillo, dato che queste due sceneggiatrici hanno lavorato anche sulla trilogia jacksoniana. La Walsh, come sappiamo, è la moglie di PJ, quindi, da questo punto di vista, possiamo stare tranquilli. E conto su di loro per trovare una soluzione al problema temporale a cui vi ho accenato prima. L'articolo continua poi con è un onore e un privilegio viaggiare indietro nella terra di mezzo con il nostro buon amico e collaboratore Andy Serkis che ha degli affari in sospeso con quel puzzone di Gollum. Hanno detto Jackson, Boyens e Walsh in una nota. Quindi queste sono affermazioni dello stesso PJ che conferma di lavorare a stretto contatto con Serkis. E l'articolo si conclude con questa parte che mi ha fatto un po' sorridere. Amazon sta anche sviluppando un proprio universo televisivo più ampio per il franchise, portando potenzialmente alle due visioni competitive. Si diceva che Jackson e i suoi cosceneggiatori fossero frustrati dal fatto che molte persone pensassero che fossero coinvolti negli spettacoli di Amazon ma in realtà non lo erano. Quindi la frecciatina ad Amazon è stata mandata abbastanza chiaramente e giustamente il povero PJ sarà stato tra i più delusi posso immaginare dopo la visione della serie TV quindi vuole un attimino insegnare ad Amazon come si adatta a un universo come quello torqueniano senza per forza doverlo snaturare e distruggere. E ragazzi cos'altro aggiungere se non che ho bisogno di qualche giorno per riflettere su questa notizia perché è indubbio che è la notizia che tutti stavamo aspettando. Non vi nascondo che avrei preferito un adattamento maggiormente legato al Silmarillion ma nulla esclude come abbiamo visto anche dalla foto appunto di PJ con il Silmarillion che in futuro potrebbero arrivare anche quelli. Diciamo che questi nuovi film potrebbero essere un modo per riprendere in mano questo universo ovviamente da un punto di vista prettamente cinematografico e non seriale e magari testare le reazioni degli spettatori dopo vent'anni e capire se vale la pena ancora spenderci soldi e continuare. Quindi rimaniamo in attesa un'attesa trepidante e una cosa è certa ragazzuoli Amazon se la sta facendo nei pantaloni perché considerati i due anni che hanno impiegato per ultimare la seconda stagione di Rob e si deve sempre vedere se arriverà quest'anno e considerato che se ne faranno anche un'altra probabilmente passeranno almeno altri due anni finiranno per tirar fuori la terza stagione proprio con l'uscita prevista quindi ipotetica dei nuovi film della Warner e questo potrebbe portare a uno scontro decisamente importante tra le due parti che potrebbe troncare le gambe a uno dei due perché è ovvio che i fan faranno paragoni metteranno in competizione nelle due rappresentazioni come anche giusto che sia ed è ovvio che verrà fuori un vincitore e uno sconfitto un perdente e se dovessi puntare 100 euro ma io direi anche 100.000 euro sull'ipotetico vincitore di un duello come questo potete ben intuire su chi andrei a puntare detto questo fatemi sapere ovviamente la vostra nella sezione commenti ovviamente ragazzi tratterò ancora l'argomento in altri video è ovvio probabilmente faremo una live questa domenica insomma seguirò e parlerò molto attentamente di questo progetto c'è Kelly fra l'altro la mia cara mogliettina che è in stretto contatto con l'agente di Andy Serkis che tempo fa le disse che stava Serkis lavorando su un nuovo progetto e posso immaginare che intendesse proprio questo infatti all'epoca ci disse che non poteva partecipare a una delle nostre interviste perché stavo lavorando su un nuovo progetto quindi chi lo sa cosa potrebbe accadere e nulla stiamo lavorando per voi ma ora mi fermo qui ragazzi e mi raccomando lasciate un pollice in alto iscrivetevi al canale la campanella mi raccomando soprattutto se volete essere aggiornati tempestivamente sulle nuove notizie di questi film dedicati a questi film ai nuovi film dell'universo tolkeniano ma per tutti i video di questo canale campanella mi raccomando io vi mando un grande abbraccio un saluto che giornata ragazzi a presto ciao grazie a tutti